E' cosa? Perché tu devi avere il fucile e io no? Perché tu hai il vestito da cacciatrice, una cosa per uno. Un vestito e un fucile non sono proprio la stessa cosa. Va bene, faremo a turno. Ferma! Che c'è? Ho sentito qualcosa, lì dietro. Oh, quanto è carina! Aspetta Elsa! Vieni qui, piccola, non aver paura, non voglio farti del male, ma che... Vieni qui, piccola, non aver paura, non aver paura.